Questa è via Piero della Francesca e siamo nella zona di Murino Becciu e le persone che non vedrete inquadrate in viso perché hanno quasi vergogna di quello che sta succedendo qua, sono degli abitanti di queste case che chiamano le case dei Puffi e che purtroppo ancora una volta hanno i problemi che hanno. Ci volete raccontare in breve, in sintesi, che cosa sta succedendo in questo palazzo? Allora, ci sono le tubature dell'acqua, come gliele posso definire? Purdiate, l'impianto idraulico e niente, si arrota questa valvola che non ci conduce all'acqua siamo tre giorni senza acqua, non abbiamo visto nessuno, né comune né nessuno. Tre giorni senza potervi lavare? Da venerdì? Ci stiamo adattando così, chiedendo l'acqua a gente? Ascoltando il pentolone, lavandoci così, però abbiamo la roba che si sta... Come i gatti ci stiamo ammucchiando Come i gatti, è giusto Figlia lei Sì E come fa l'orecchio? Aspetto, mando mio figlio da mia mamma Ho capito Io mi lavo con le pentole Perché è la mamma che abita più vicino? Sì, mia mamma abita dall'altra parte Ma no, è venuto a guardare fuori e dice che non è competenza loro perché il guasto non è lì Il guasto è all'interno della scala, è competenza del comune di Cagliari e il comune di Cagliari non ci ha detto niente Non si è visto nessuno E allora che l'ha fatto? Hanno promesso che venivano in mattinata, però non è venuto nessuno Come hanno fatto sei anni fa che c'erano dei guasti e l'hanno aggiustato a quella maniera Eh sì, è riscoppiato E quella maniera che non hanno aperto definitivamente il rubinetto E l'acqua arrivava pochissimo negli appartamenti E l'acqua arrivava pochissimo negli appartamenti